Qual è la migliore attività fisica per dimagrire? Sono Filippo Ongaro, ideatore del Metodo Ongaro, un approccio scientifico di crescita personale e aumento della prestazione. Se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale YouTube e clicca anche quella campanellina che vedi perché in quel modo sarai sempre aggiornato ogni volta che ci sono nuovi contenuti. Una domanda che viene sempre a galla è qual è l'attività fisica migliore per dimagrire? E devo dire che dopo tanti anni che in qualche modo seguo anche l'ambiente del fitness e del dimagrimento ne ho sentite di tutti i colori, ogni anno viene fuori qualcosa di nuovo che sembra essere finalmente la soluzione miracolosa, poi alla fine si torna inevitabilmente alle solite 3-4 regolette che sono sempre quelle che non sono mai cambiate e forse ogni anno si crea questa speranza che si possano superare queste regolette perché sono tanto classiche quanto noiose e sono ahimè che devi mangiare meno, che ti devi muovere di più, che devi mangiare in maniera sana e per quello che riguarda l'allenamento fisico anche là nonostante tanti tentativi non è mai emerso un protocollo di allenamento che sia scientificamente del tutto superiore nel produrre il risultato del dimagrimento. Ora faccio una dovuta premessa perché so che ci sono tanti esperti che guardano questi video, è chiaro ci sono delle differenze, ci sono anche delle differenze che sono state quantificate, però ahimè non si applicano a tutti, dunque il vero tema è che un professionista bravo, un medico sportivo, un dietologo, un personal trainer devono personalizzare l'approccio perché per quanto quelle regole di base siano abbastanza generiche e vadano bene per tutti, poi la risposta metabolica, ormonale, al cambio di alimentazione e all'attività fisica è davvero molto individuale. Dunque quello che io dico in questo video per rispondere a questa domanda, che è una domanda che vediamo frequentemente venire a galla, non voglio, ma come quasi tutto quello che dico, non voglio venga presa come un tentativo da parte mia di parlare di una verità assoluta, assolutamente no, dico soltanto io ho 49 anni dopo tanti anni di esperienza anche sul campo, sia come professionista che come persona che si è sempre interessata al fitness non ho ancora mai trovato una cosa che faccia un'enorme differenza, dico ah fai quello guarda e dimagriscono tutti assolutamente con certezza né nella parte nutrizionale né tantomeno nella parte allenamento fisico. Quello che io alla fine ho sempre trovato più efficace è la combinazione di due tipologie di attività, un'attività di tipo aerobico, cardio a bassa intensità e di lunga durata che diciamo tenta di aumentare la lipolisi, ossia il consumo calorico ma di grassi e non di zuccheri come invece fa l'attività fisica di intensità più elevata, combinata con un'attività fisica invece di forza fatta con i pesi, che ha il merito di mantenere la massa muscolare intatta nonostante ci sia un regime di riduzione calorica e questo fa sì che il metabolismo basale, ossia la quantità di calorie che vengono consumate nelle 24 ore non si riduca eccessivamente, cosa che capita in tanti approcci di dimagrimento e che penalizza drammaticamente la persona perché ovviamente se consumi meno nelle 24 ore quel deficit che hai creato riducendo la nutrizione non basta più per perdere peso. Quindi la strategia che io personalmente ho sempre trovato più efficace è quella di combinare appunto un'attività aerobica fatta dal mio punto di vista preferenzialmente a digiuno quindi per esempio la mattina presto prima di colazione che può essere la camminata, può essere la corsetta non troppo veloce, può essere un po' di bicicletta, può essere qualsiasi tipo di attività che non porti diciamo a un utilizzo esclusivo di zuccheri da parte del muscolo, questo si dovrebbe valutare in maniera più precisa utilizzando un cardiofrequenzimetro e controllando di non andare troppo su con la frequenza cardiaca e piuttosto invece aumentare la durata che deve essere almeno un 30-40 minuti e poi abbinare a questa attività in un momento successivo della giornata o a giorni alterni a seconda di quanto tempo hai a disposizione di quanto dedicato sei al tuo approccio al dimagrimento invece appunto un'attività più di forza che lavori sui muscoli e che abbia il merito di mantenere più integra possibile la massa muscolare e dunque il metabolismo basale. Chiaro che ci sono meccanismi complessi, difficile da riassumere in un video di pochi minuti, se sei interessato ad approfondire questi temi e lo vuoi fare con me ti ricordo che sul sito www.filippo-ongaro.com trovi perlomeno due corsi molto connessi con questo argomento. Uno si chiama costruisci il tuo corpo e riguarda più la metodologia scientifica dell'allenamento fisico, quindi come si crea, si struttura un allenamento fisico sul piano scientifico, quali sono i parametri che dobbiamo imparare a controllare e l'altro si chiama invece nutrizione potenziativa e riguarda più come si utilizza la nutrizione per potenziare la propria salute e la forma fisica. È chiaro che sono due corsi che lavorano molto bene in sinergia per ottenere come risultato quello di avere un corpo non soltanto più sano ma anche più in forma e più atletico. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!